Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Everdale. Dopo l'episodio della scorsa volta in cui sono andato a sbloccare finalmente la Valley, quindi questa cosa qua che ci permette di zoomare all'indietro e di vedere tutti i nostri compagni e amici, oggi andiamo a sbloccare quello che secondo me è il baule più raro del gioco. Infatti c'è questo meccanismo, questo mercante che si chiama Otto, l'Otto Strading Buffett, ripreso un po' da quello che era effettivamente Clash of Clans, che aveva la capanella di Otto nel secondo villaggio. E una volta completate tutte le task, in questo caso a me manca l'ultima task, questa qua della figurina, che sono andato a sbloccare attraverso la Warhouse Fool, infatti la Warhouse contiene due figurine, e adesso andrò immediatamente a riempire il deposito di Otto e quindi a ricevere 200 monete, ma oltre a questo riceverò anche un baule extra. Infatti ricevo effettivamente 200 monete e come vedete nella capanna di Otto, una volta sbloccate tutte le ricompense, ho questo baule. Il baule secondo me più buono del gioco che è la reward chest, attraverso questa reward chest io ho guadagnato 15 knowledge points che ci permettono di andare avanti all'interno del laboratorio e altre 200 monete, quindi siamo a 1100 monete e un sacco di roba. Nell'Otto Strading Buffett adesso abbiamo altre cose da sbloccare purtroppo, sì effettivamente sono anche abbastanza. Iniziamo subito con la take task dei lamponi e andiamo subito a riempirli, infatti ne avevo già 4, li riempiamo molto molto facilmente. Poi ho 12 cataste di legno che saranno un po' più complicate, 3 funghetti, andiamo subito a prendere 3 funghetti facilmente, infatti basterà assegnare uno dei nostri personaggi e andarlo a mettere attraverso la... Beh lui sta facendo le figurine quindi fateglielo fare perché poi mi servono anche per un altro incarico. Andare magari a mettere Sherry che va a raccogliere pian piano i funghetti, quindi una volta che lei raccoglie i funghetti io sostanzialmente potrò andare a riempire finalmente la cassetta e tutte altre cose che adesso non vi sto raccontare. Inoltre nello stadio ho sbloccato un nuovo diciamo progetto che è quello della nuova casa, infatti ho la possibilità finalmente di mettere questa nuova casa che secondo me mi aiuterà veramente veramente tanto. Direi subito di andarla a mettere, infatti ci serve soltanto un pezzo di legno, andiamo subito a costruirla velocemente attraverso l'aiuto di Sherry che ci va ad aiutare molto molto facilmente. E andiamo ad utilizzare del fantastico Nettare in questo caso che ci serve appunto per andare a boostare un po' tutto il processo di costruzione della nostra casa e di tutto quello che ne consegue. Infatti come vedete la casa si costruisce molto molto velocemente, avrò anche la possibilità di andare a prendere i funghi più velocemente, insomma tutto molto molto più veloce. Attraverso questo tasto a sinistra abbiamo la possibilità di togliere i time estimates, invece noi li attiviamo per sicurezza così almeno abbiamo la possibilità di avere una panoramica generale di più all'interno del nostro dispositivo. E qua andiamo ad assegnare ad esempio Emma, no voglio insegnare Emma qua, dai assegniamo Emma così almeno abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Emma la mandiamo a raccogliere i funghi, mentre Emma va a raccogliere i funghi mandiamo qualcuno a fare il legno nell'Evergroove, mandiamo Sherry a fare il legno. Ok ci manca ancora un funghetto da prendere, lo facciamo andare a prendere a Sherry e poi riempiamo l'Ottos Trading Buff che secondo me è molto molto carino. Quindi riempiamo molto facilmente l'Ottos Trading Buff con tre di cose. Poi altri incarichi che si possono fare abbiamo ad esempio quella delle uova che ce l'abbiamo già fatta, quindi andiamo subito a svuotarla e siamo a posto. Abbiamo quella della Clay che siamo praticamente a posto e andiamo semplicemente ad assegnare nel Clay Deposit di uno, andiamo ad assegnare Sherry che ci va a prendere subito un pochino di Clay in modo tale da andare a riempire appunto la Trading Buff di Otto. Qua nel mentre continua a farmare la Sup che ci serve sempre e appunto una volta che lei lo porterà noi siamo a 6 su 6 e possiamo andare effettivamente a riempire l'Ottos Card. Perfetto, detto questo, dobbiamo andare ancora a fare la Wool. La Wool sarà un po' più complicata da fare ma la faremo sicuramente. Adesso direi di prendere i 6 di legno che secondo me sono i più facili da fare. Per fare più legno facilmente bisogna andare a mettere in una foresta la nostra Emma. Andiamo la nostra Emma a fare più legno facilmente, infatti andrà a farmare molto molto velocemente altro legno. Purtroppo è finito il boost quindi sarà tutto molto molto più lento il tutto. Ma come vedete si farma abbastanza abbastanza veloce all'interno di questo gioco. Dovete saperla gestire abbastanza bene e tenere sempre i 4 costruttori occupati. Questo è un consiglio che io vi posso dare. All'interno delle Valley è un po' più complicata la situazione, magari vi farò un video a riguardo su come funzionano le Valley, su come funziona il tutto. Attualmente noi stiamo semplicemente farmando il più veloce possibile per fare appunto la missioncina di 8. Questo video invece era semplicemente per vedere effettivamente come funziona l'8 trading buff e qual è quello che secondo me è il baule più raro del gioco. Schiacciando questo tasto qua abbiamo la possibilità di spostarci all'interno del nostro Grid Library. All'interno di questo Grid Library abbiamo la possibilità di fare la wet field. Insomma un po' di un po' di librazzi che sicuramente sono importanti da fare ma queste cose ragazzi non tocca a noi a farle, tocca al clan in sé. Qua abbiamo la ship pasture dove possiamo andare a prendere della lana in questo caso che appunto ci serve. Quindi magari mettiamo Sherry che lei è disponibile a prendere della lana, la mandiamo qua a catturare della lana all'interno del Pecorame che secondo me è la cosa migliore. Schiacciamo questo tasto qua per ritornare effettivamente al nostro villaggio. Qua continuiamo a farmare un po' di legno attraverso l'Evergroove che è appunto una cosa che ti dà infinito legno. Chi è che sta farmando legno ancora? Lo sta farmando Emma, brava Emma che farma ancora l'altro legno. E questo qua invece farma pian piano le nostre figurine che secondo me sono molto molto importanti dato che abbiamo una missione da 2 su 2 da riempire. Quindi dovremmo anche andare a riempire purtroppo questa 2 di 2 ma lo faremo abbastanza facilmente. E mentre che l'altra farma altro legno noi andremo poi a riempire qua attraverso il 6 su 6 altro legno ma adesso questo qua è un altro discorso. Infatti Emma lo sta portando nel deposito. Una volta che Emma lo porta nel deposito come vedete Emma si avvicina al deposito e fra un po' lo mollerà all'interno del deposito. Noi andremo a riempire immediatamente con il 6 su 6 l'otto scart. Quindi sblocchiamo altre monetozze e andiamo subito a prendere la missione delle 2 su 2 delle figurine. Quindi prendo la task delle 2 su 2, qua abbiamo la warehouse full e andiamo subito a svuotare 2 su 2 figurine. Quindi anche la missione delle figurine è stata fatta, un sacco di altre monetozze che ci servono molto molto molto. E adesso direi di andare a prendere la missione delle 12 di legno che sarà un po' più complicata mandando qualcuno all'Evergroove. In particolare io adesso manderei il nostro Gerard a fare l'Evergroove così almeno ci fulla un po' il legno. E noi per il video termina qua. Se volete vedere altri video su questo gioco mi raccomando like e pollicione. Passate domani alle 14 qua sul canale per un video short. Ciao belli! Ciao!